cari amici ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica nella quale vi parlo dei megapixel i tanto osannati megapixel prima di iniziare velocemente ricorda di iscriverti al canale riflessione fotografiche se parli di argomenti a 360 gradi che riguardano il mondo della fotografia cioè il mondo della passione che credo tu abbia ti ricordo anche che in descrizione trovi link alle pagine e video di presentazione dei nostri corsi online dallo scattola stampa fine art il corso dedicato al bianco e nero con parecchi metodi di conversione dal colore al bianco e nero professionali e il corso dedicato alla composizione fotografica con le strategie dei grandi maestri vai sui link e scoprirai perché il miglior investimento è su se stessi ok ragazzi dai entriamo in argomento e parliamo di megapixel perché vi parlo di megapixel perché recentemente ho letto un articolo su petapixel che è intitolato ve lo dico con esattezza leggo il computer perché 24 megapixel è ancora la migliore risoluzione ora si può disquisire 24 20 30 milioni di pixel dipende dal sensore un conto è un rps 5 un conto un full frame un conto è un micro 4 terzi però in sintesi poi se volete andate però a leggere sono trovate su petapixel.com sostanzialmente lui fa un discorso legato alla laica dice io da possessore della m10 la m10 a un certo punto ho sentito il richiamo anch'io della super risoluzione ho comprato la m10r e praticamente dopo poco sono iniziate le delusioni non perché la m10r non produca immagini di alto livello ma perché dice mi sono reso conto che il look apre virgolette caldo e avvolgente della file della m10 erano stati sostituiti da un look del file molto più clinico molto più inciso molto più dettagliato ma al tempo stesso anche un po più finto no un po più iper realista possiamo utilizzare questo termine al punto tale che è tornata sui sui passi si è ripreso le m10 e ha venduto le m10r il concetto di fondo è questo insomma all'interno dell'articolo dicendo che ok stiamo andando verso una maggiore definizione dei sensori che ha per me un unico vero vantaggio almeno con gli attuali sensori con la matrice bayern che è quello di poter croppare in maniera importante l'immagine rispetto ai sensori con definizione più bassa quindi con meno megapixel quindi si sta andando ormai tutti i costruttori vedete che si vanno in quella direzione io l'ho già detto in un altro video legato anche parlando di obiettivi la tanti megapixel comportano delle scelte progettuali legate agli obiettivi difficili da far in qualche modo convivere con dimensioni leggerezza prezzi eccetera per cui inevitabilmente comprando ottiche più moderne comprerai un'ottica per amore del cielo di qualità ma comprerai anche tanto software che compensa i limiti fisici legati alla scostruzione ottica ma insomma lo spiegato in un video dedicato cioè sostanzialmente il concetto qual è tanti milioni di pixel significa che gli obiettivi che andavano perfettamente magari sulla tua fotocamera da 24 milioni di pixel cominciano a mostrare la corda e c'è bisogno di obiettivi sempre più nuovi più performanti più costosi eccetera l'esempio dell'm11 rimanendo in casa laica è proprio palese c'è obiettivi considerati stellari come il 35 millimetro e 4 fle su una fotocamera da 24 milioni di pixel o da 20 milioni di pixel 18 come lm9 su una fotocamera da 60 milioni di pixel comunque vedi che cominciano a mostrare la corda non a caso laica sta facendo sempre uscire obiettivi di terza quarta quinta sesta ventesima generazione per rimanere al passo con i tempi e quindi essere come dire trovare il giusto connubio tra obiettivi e obiettivi tra sensori definiti e obiettivi di qualità c'è da dire poi che effettivamente è sempre un compromesso tra obiettivi e sensore non a caso le migliori performance si hanno su fotocamere compatte penso ad esempio alla zeiss la zx1 che monta un'ottica 35 f2 su un sensore da 37 milioni di pixel se non ricordo male che è stato progettato costruito pensato proprio per quel sensore quindi sono insomma pappa e ciccia potremmo definirla in questo modo quindi sono veramente un connubio perfetto quando tu hai chiaramente lenti che si adattano a diversi corpi quindi ovviamente sempre un piccolo di compromesso è inevitabile e tutti questi compromessi vengono risorti con una pillolina magica che si chiama software e grazie al software una lente che in realtà non è proprio stellare non per incapacità del costruttore ma per necessità ripeto di far bilanciare diversi fattori in realtà sembra essere una lente stellare con il risultato però che i file di oggi sembrano sempre più a mio parere clinici clinici si il termine esatto utilizzato da petapixel credo che sia assolutamente corretto più clinici più incisi eccetera personalmente ritengo che ad esempio Roberto che insomma conoscete fa con cui lavoro che ha un r5 un r6 a mio giudizio i file li trovo con le ottiche rf li trovo fin troppo incise cioè con una nitidezza veramente eccessiva a mio giudizio soprattutto per il settore in cui noi lavoriamo che è il settore matrimoniale dove oggi ci si sposa non più a 18 anni quando c'è la pelle fresca come la rosa ti sposi a 40 anni quando comunque la vita ha lasciato i suoi segni cinici sulla tua pelle e inevitabilmente quei segni vengono amplificati vengono digitalizzati in un modo che spesso sono un problema non è un punto di forza voi direte ma a me non me ne frega niente io faccio paesaggio a me tutto il dettaglio torna comodo anche lì avrei qualcosa da dire però ognuno ha le sue esigenze i suoi gusti per me l'unico vero vantaggio di un sensore ad alta definizione è che puoi croppare quindi se tu hai un 200 mm croppandola a 1.5 ti diventa circa un 300 mm poco più di un 300 mm e quindi hai come dire un'ottica in più diciamo così ovvio che la resa è diversa è un conto lo schiacciamento dei piani di un ten super tele obiettivo è un conto magari di un medio tele sono resi un pochino diverse schemi ottici diversi quindi con rese diverse però effettivamente hai un angolo di campo che ti permette di avvicinare quindi di ingrandire di più il soggetto all'interno del fotogramma senza dover ricorrere a un altro obiettivo questo è innegabile è un vantaggio io vi dico la verità io ho avuto mi faccio il mio caso abbiamo preso l'S1R per poter testare tutti gli obiettivi e le mount e utilizzo anche in diversi matrimoni e l'ho utilizzata anche in diversi matrimoni con molta sincerità anche se ne ritengo un'ottima fotocamera ma io alla fine ho preferito l'S1 e preferisco ancora oggi l'S1 a parte perché l'autofocus è più performante e a livello video va un pochino meglio ma a parte questi aspetti che sono di altra natura semplicemente perché per me i 47 milioni di pixel comportavano intanto un'archiviazione mostruosa in un matrimonio si fanno parecchi scatti e diventa veramente un problema seconda cosa questa iper definizione onestamente l'ho trovata anche eccessiva non necessaria commettiamo in questo modo in quell'ambito e perché poi ti costringe ad utilizzare sempre lenti praticamente top per altrimenti vedi comunque un decadimento della performance del sensore e quindi a mio giudizio non era necessario ho fatto anche un video di comparazione tra l'S1 e l'S1R compreso anche il tema del crop ma con una resi stampa cioè ho fatto stampe veramente importanti cioè parliamo di 1 a 1 andate a vedere il video e vi accorgerete ho anche croppato la foto praticamente una foto verticale ho preso un terzo quindi la foto immagina divisa in tre porzioni ho preso una porzione quindi una foto verticale è diventata una foto orizzontale stessa cosa fatta con l'S1 e l'S1R quindi in teoria in quest'ambito quindi con una foto molto groppata si doveva vedere la maggiore qualità di una fotocamera da 47 milioni rispetto a 24 milioni di pixel in realtà su un 60-40 il risultato è indistinguibile lo ripeto perché vi garantisco io lo faccio vedere anche ai corsi e altre persone vi posso garantire che nessuno riesce a riconoscere l'una e l'altra con ovviamente un'ottica di qualità abbiamo utilizzato un'ottica in grado teoricamente di risolvere i famosi 47 milioni di pixel insomma di sfruttare la definizione di 47 milioni di pixel quindi la differenza è minima il look però applicato anche ripeto legato al software che spesso va a correggere eventuali lenti che non riescono a stare al passo del sensore fanno sì che a volte il look finale sia a mio giudizio troppo inciso poi ci sono altri aspetti negativi legato all'alta definizione come ad esempio un rumore che è un pochino più elevato tra l'R5 e l'R6 non c'è una grande differenza in termini di rumore però in realtà c'è soprattutto se vai a scattare condizioni di luce difficile se tu vai a schierire le ombre ad esempio sull'S1 e l'S1R la differenza in quest'ambito è importante l'S1 ha una performance stellare ad alta risoluzione se non è la migliore poco ci manca anche grazie al dual ISO la S1R invece ok se tu scatti bene anche a 6400 il file è ottimo ma se tu cominci a schiarire le ombre la differenza esce fuori in maniera importante dipende ovviamente dalla tecnologia del sensore il discorso è molto più articolato e complesso di come lo sto facendo io però effettivamente lo spunto del video di petapixel cioè di che 24 minuti di pixel sono forse la risoluzione ideale cioè il giusto compromesso come direbbe un po' Aristotele come cita appunto petapixel cioè insomma il giusto mezzo, la via di mezzo, l'equilibrio perfetto probabilmente è vero ora se non 24 io credo è con 30, 32, massimo 36 milioni di pixel siamo veramente a una condizione ideale per le necessità che realmente abbiamo poi è vero ci sono gli appassionati di avifauna che croppano all'infinito per cui un uccellino piccolo deve riempire il fotogramma fanno dei crop pazzeschi per cui la definizione può fare la differenza me ne rendo conto è anche vero che insomma alzare sempre di più l'asticella di tutte le fotocamere di fatto perché questo è un po' il punto cioè i costruttori cosa stanno facendo ti fanno tra virgolette credere o credere insomma ti spingono a comprarti una Z7 piuttosto che una Z6 perché? perché la Z7 ha una tecnologia un autofocus migliore eccetera eccetera della Z6 che risulta essere di secondo livello rispetto alla Z7 che in realtà non è proprio così cito un esempio in casa Panasonic non è esattamente così in Panasonic le due fotocamere sono quasi diciamo speculari cambia diciamo la definizione poi in realtà l'S1 è più orientata anche al video insomma ad altri aspetti che l'S1R non ha è stata una scelta del costruttore però effettivamente nella testa di molte persone e su questo condivido con l'articolo di Petapixel c'è l'idea che se compro una fotocamera con tanti megapixel è una fotocamera superiore rispetto a una che ha solamente 24 milioni di pixel questa è semplicemente un'induzione ipnotica ripeto un'induzione ipnotica che gli uomini marketing abilmente hanno creato non è assolutamente così sono due eventualmente fotocamera destinati semmai ad utilizzi diversi ovvio è che se tu dici guarda Damiano io parto dalla 1 a salire come dimensione di stampa beh certo partire da un 50 milioni di pixel in quel caso potrebbe farti gioco ma se tu invece non stampi praticamente mai pubblichi su Instagram fai al massimo arrivi fino a una 1 anche un 24 milioni di pixel ti permette di avere delle immagini di grandissima qualità sempre che tu sappia come si fa come scattare come lavorare i file e come ottimizzare tutti i file per delle stampe di qualità questo ovviamente risulta essenziale per cui io personalmente condivido l'opinione di Petapixel per me 24 dai 24 ai 36 milioni di pixel al massimo sia l'ideale per il full frame a mio giudizio da 20 a massimo 30 sia l'ideale per la PSC l'ideale insomma è una condizione accettabile per la PSC a mio giudizio tra 12 e 20 milioni di pixel è la condizione ideale per il micro 4 terzi questa è un po' la mia opinione non c'è dubbio che i sensori futuri tecnologie future magari cambieranno completamente questo paradigma non c'è dubbio che oggi anche con micro 4 terzi con da 30 magari milioni di pixel 32 milioni di pixel puoi fare tantissimo ma sicuramente c'è tanto software così come oggi nei cellulari cellulari da 108 milioni di pixel le immagini si sembrano spettacolari ma la realtà è che dietro c'è tantissimo software se tu togli le correzioni software incisioni, nitidezza, bla 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 insomma tutto quello che il software può fare vedrai un'immagine decisamente più deludente rispetto a quanto tu possa credere questa è la mia opinione come sempre ragazzi aspetto i vostri commenti un bel like link in descrizione ciao 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 ciao